Per me lo studio è proprio un punto di riferimento, luogo sia di lavoro che di ideazione. Qua siamo in uno studio che si chiama Armenia Studio, uno studio condiviso nato in un periodo sicuramente particolare. È stato anche molto utile il fatto di sfruttare questo periodo per lavorare a uno studio nuovo, a un progetto nuovo. Lo spazio è diviso in due parti, c'è una parte che sono i veri e propri studi e invece una parte in cui c'è una project room, in cui si fanno progetti, si possono fare preview di lavori sui quali magari stiamo lavorando. Non mi immaginerei ora in uno studio da solo, per me il confronto con gli altri è sicuramente importante. In quanto artista in realtà è una formazione un po' particolare, una formazione ibrida, nel senso che prima dell'Accademia ho studiato Ingegneria Idile, ma è un corso molto simile ad Architettura. Quindi comunque c'è un lavoro progettuale, ma anche un lavoro di relazione con lo spazio. E poi nell'Accademia ho studiato scultura, quindi in realtà quando mi chiedono cosa faccio io mi definisco, nonostante i lavori sia con la scultura che con l'immagine in generale, mi definisco scultore. Nel mio lavoro ho messo insieme un po' questi due aspetti, quindi l'idea della progettazione, il lavoro con lo spazio, il lavoro con la scultura all'interno dello spazio, le conoscenze in campo ingegneristico, soprattutto legate ai software e al mondo digitale, l'ho poi applicato nella mia ricerca. Quindi ad esempio adesso sto lavorando ad una serie di immagini che sono delle stampe che inizialmente ho iniziato a fare su carta, adesso su cartongesso, che sono delle ricostruzioni in 3D dei luoghi nei quali ho vissuto, che quindi ricordando com'erano ho ricostruito completamente in 3D e poi le ho stampate con una tecnica analogica. Quindi c'è sempre nel mio lavoro un po' un'ibridazione tra le tecniche, quindi c'è sempre una fase di progettualità legata ai software o comunque alla modellazione in digitale e poi c'è un passaggio attraverso un medium in qualche modo che rende materica l'immagine digitale. E lavoro molto con i software di rappresentazione dello spazio, come ad esempio AutoCAD o software di modellazione 3D, creando diversi tipi di narrazioni o narrazioni nuove in qualche modo. Quindi da una parte anche un lavoro sull'immagine digitale o comunque sul corpo dell'immagine digitale. Questa è una cosa che mi interessa molto e che faccio attraverso l'ibridazione di diverse tecniche. Qui in studio lavoro con l'immagine, sempre in maniera installativa, non sono un fotografo, quindi appunto quando lavoro con l'immagine sempre in maniera installativa e hanno sempre una relazione con lo spazio. E poi appunto lavoro con la scultura, queste sono due sculture in tessuto e alluminio. E mentre diciamo nelle immagini il processo digitale che è molto freddo e poi scaldato attraverso questa tecnica di stampa, e le sculture invece mantengono questa loro freddezza data dal materiale. Però questa relazione tra il tessuto e l'alluminio in qualche modo, per me sono delle sculture molto tattili. Cioè mentre nelle immagini il mezzo di stampa mi permette di rendere fisica e tattile l'immagine digitale, nelle sculture questa tattilità è data un po' dal rapporto tra i materiali. Quindi dal tessuto che diventa metallico, che assume una sua solidità, e invece l'alluminio che invece rimane come se fosse liquido. Quindi c'è questa ibridazione tra i due materiali che restituisce, più che un lavoro sulla forma della scultura, è un lavoro per me sulla superficie della scultura, attraverso l'utilizzo appunto di diversi materiali. È tessuto, però in qualche modo è come se fosse solido. E quindi anche quando lavoro con materiali, tra virgolette, liquidi o morbidi, o che non hanno una propria forma, tento di lavorarci dando una solidità al materiale. La responsabilità che sento ora nel fare arte è principalmente nel rapporto con il pubblico. In questo la mia formazione un po' mi è venuta incontro. Il lato ingegneristico mi ha permesso di riuscire in qualche modo ad avere un dialogo, ma anche con persone, con professionalità, non legate prettamente al mondo dell'arte, ad esempio. Quello lì in realtà è il negativo che uso poi per la stampa, perché diciamo il processo principalmente è quello... parto dai programmi di modellazione 3D, quindi ricostruisco tutto in 3D, e poi una volta che ho il 3D dell'edificio, lavoro come un fotografo di studio, quindi posiziono le luci, scelgo alcune inquadrature, e una volta che ho, diciamo, la vista che mi piace, faccio il render e stampo il negativo, a plotter. E poi il negativo lo uso poi per la stampa diretta al sole. Uso delle sostanze fotosensibili, con le quali emulsiono le superfici, e poi con i raggi UV del sole stampo. E vengono delle immagini che sono un po'... hanno questa pretesa di oggettività, nel senso che sembrano delle fotografie. E in realtà poi sono qualcosa a metà tra la fotografia, tra l'immagine, tra delle proiezioni mentali, quindi un po' sono delle immagini al limite, tra tante cose.